Colpo al clan Angelino a Caivano I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 14 persone. Di queste, 13 sono finite in carcere ed una ai domiciliari. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, oltre che di estorsione e tentata estorsione. Tutti i delitti aggravati dal cosiddetto metodo mafioso, in particolare, dalle attività investigative sarebbe emersa la perdurante operatività del sodalizio criminale, clan Angelino, egemone nel campo delle richieste estorsive in danno di imprenditori e commercianti in Caivano e territori limitrofi. Ad emettere il provvedimento il giudice per le indagini preliminari su richieste della direzione distrettuale antimafia.